Buonasera, sono Belinda Bitossi e oggi vi parlo della deposizione dalla croce difinta da Ludovico Cardi, detto Il Cigoli. L'opera che ho scelto si trova oggi a Palazzo Fitti, nella sala di Apollo, ma la sua storia non inizia a Firenze, bensì a Empoli, sull'altare dell'Oratorio della Croce, che è un ambiente oggi poco accessibile, annesso però alla chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani. Si apre sul lato destro di quella chiesa. La Compagnia della Croce, come tante compagnie laicali di fondazione trecentesca, era nata per scopi penitenziali e assistenziali. Fu naturale quindi per i confratelli scegliere il tema della deposizione in quanto identitario della compagnia stessa, che proprio nella Croce, nella Passione di Cristo, aveva la sua ragione d'essere. Osserviamo insieme l'opera. Il dipinto, una grande tavola d'altare alta più di tre metri, larga poco più di due, è un notturno, ci presenta un notturno, un notturno in cui il tempo si è fermato. Ai lati della Croce il sole e la luna mostrano al centro due figure in lacrime. Anche gli astri piangono, partecipano così al trapasso di Cristo, al momento in cui dalla Croce spira l'ultimo respiro. È una scena affollata, in cui si muovono vari personaggi, sono i personaggi del racconto evangelico. Partendo dall'altro vediamo subito un giovane che dall'alto della scala aiuta Giuseppe d'Arimatea a deporre il corpo di Cristo sul telo candido che gli forge il giovane San Giovanni. Le quattro figure disegnano una diagonale che attraversa l'intera superficie del dipinto e ha il suo perno in questo bellissimo corpo di Cristo, di un cantore quasi statuario. In basso invece l'angolo sinistro è occupato da tre donne, sono le tre Marie. Maria Maddalena al centro, figura straordinaria, elegantissima e scarmigliata come per troppa passione, ci volge le spalle completamente assorta nella contemplazione di Cristo. Poi, poco più in là, Maria di Cleo fa un po' più defilata, infine la Vergine Maria. Come in una rappresentazione teatrale, la Madonna si rivolge alla platea, ai confratelli, a noi. Allarga le braccia sulla corona di spine e sui chiodi che hanno piegato il corpo del figlio e ci offre il suo dolore composto. Il volto è pallido e su questo volto si riconoscono due lacrime, un dettaglio bellissimo di una naturalezza estrema. Alle spalle delle donne altre tre figure, tra cui un signore avvolto in un elegante mantello giallo, che è certamente Nicodemo, il ricco fariseo che offrì gli oli per profumare il corpo di Cristo, così come il rito della sepoltura del tempo prevedeva. Cigoli ha questa capacità straordinaria di organizzare una composizione, di allestire un palcoscenico, di dar vita alla storia. È una lezione che probabilmente ha imparato dal buon talenti, progettando spettacoli e apparati per le feste di corte della famiglia Medici, ma che sa tradurre magistralmente in pittura con questo uso nuovo del colore e della luce. Cigoli è il tiziano, il corregio di Firenze, così lo definiva Baltinucci, con questa formula che ancora oggi torno a ripetere, perché è particolarmente usile per capire la straordinaria novità dei Cigoli. È partito dal naturalismo riformato dei fiorentini dalla pittura di Santi di Siso e ha corretto questo naturalismo sui bagliori miracolosi della Madonna del Popolo di Barocci. Nell'anno sondo, siamo nel 1600, quando gli arriva la commissione per l'altare della Croce, ci introduce nel pieno della stagione del barocco fiorentino. È un dipinto empolese, dunque, che rimase sull'altare della Croce fino al 1690, quando viene sostituito dalla copia di Anton Domenico Gabbiani, che ancora oggi vediamo se entriamo all'interno dell'oratorio. Sì, perché quel dipinto è talmente bello da conquistare il gran principe Ferdinando, che lo vede e subito lo vuole per la sua collezione palatina. Ferdinando è il primo genito di Cosimo III dei Medici, del gran duca Cosimo III dei Medici. Ferdinando è debole, è un amore incondizionato per la bellezza in tutte le sue manifestazioni. Con quello che potremmo definire un vero e proprio istinto rabdomantico, riuscì in pochi anni a mettere insieme una delle collezioni più incredibili del suo tempo, ce ne rendiamo conto anche oggi visitando appunto la Galleria Palatina. Non dovette essergli difficile convincere i monaci e i empolesi ad accettare il cambio. Sul piatto aveva due argomenti ben convincenti. Da una parte 600 scudi, ci si faceva ogni anno la dose per due fanciulli con quella somma. Dall'altro ho la promessa di una copia fedele e fiammante del loro quadro ad opera di uno dei migliori artisti della sua corte. E quindi ecco che i monaci sicuramente accettarono e lasciarono che il dipinto prendesse la via di Firenze. Concludo con un'immagine a me molto cara, il bellissimo autoritratto degli Uffizi. Ve lo mostro qui nella copertina di una monografia che Franco Faranda dedica al pittore negli anni Ottanta e che rimane ad oggi strumento insostituibile per chi voglia avvicinarsi allo studio di questo pittore. Eccolo qua, il cigoli. Occhi grandi, appena un po' malinconici si direbbe, la barba come la moda del tempo imponeva e poi l'indimenticabile cappello di pelliccia dipinto con queste pennellate frante e libere in una armonica sinfonia di Bruni. Perché vi ho detto, il cigoli è fiorentino ma usa il colore come i veneti, con un senso nuovo della luce trepidante e calda. La stessa luce che subito accoglie il visitatore che varca la soglia della Sala di Apollo e che un tempo fu il vanto dei devoti committenti empolesi. Con questo io vi saluto, vi auguro buona Pasqua e vi invito, se vorrete, a continuare a seguire il profilo di Empoli Musei dove troverete nuove spiegazioni e nuove presentazioni di opere d'arte del nostro territorio. Buona Pasqua e un saluto a tutti. Grazie a tutti.